Rufa è da sempre attenta a sviluppare una serie di sinergie con il mondo professionale della cosiddetta industria creativa cercando di mettere a stretto contatto le studentesse e gli studenti dei vari livelli con un mondo del lavoro che testimonia una trasformazione, una trasformazione in un mondo delle arti, in contemporanea e cercando anche di fornire loro un modello didattico che possa rispondere a quelle che sono le esigenze individuali la necessità di esprimersi attraverso le varie tematiche culturali, potenzialità, interessi in comune che possono sviluppare i ragazzi lavorando in gruppo, facilitare un processo di scambio tra i vari livelli e anche tra le persone che frequentano attivamente la nostra accademia L'open day di oggi è questa occasione, cercare di testimoniare ai ragazzi che saranno gli studenti Rufa di domani quello che è il nostro mondo, un mondo aperto alla contemporaneità che guarda l'assenza di confini culturali, emotivi e geografici come traiettoria e orizzonte di riferimento e anche un luogo dove si possa appunto studiare cercando di sviluppare le proprie potenzialità e le proprie attitudini L'open day di Rufa è un momento importante per far capire ai ragazzi, ma soprattutto per fargli sperimentare cosa significa studiare in un'accademia di belle arti i ragazzi possono sentire sulla loro pelle, iniziare a lavorare con le loro mani i progetti che poi potranno sviluppare successivamente come studenti in un'accademia si studia e le cose si fanno, quindi vedere, capire, fare sono le cose importanti in questo i ragazzi sono affiancati dai loro docenti, dei veri e propri mentori i quali li accompagnano in questo percorso di crescita sono i migliori artisti, designer e intellettuali che Rufa è riuscita a trovare e che hanno la voglia di dedicare una parte della loro attività professionale all'insegnamento universitario in Rufa all'insegnamento universitario in Rufa è riuscita a trovare un'accademia di rufa all'insegnamento universitario in Rufa è riuscita a trovare un'accademia di rufa